è sfuggibile 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 è sembra che stiamo ballando stiamo facendo un passo a due a me doppio è doppio è doppio che bello allora mi metto in mezzo mi mette in mezzo come vai vai intanto tu e io prendo io parlo con la futura moglie no no viene qui viene qui viene come venne che veni qui bello bello mi piacciono questi parliamo con tutti parliamo con tutti molto bene allora eccoli qua mi sembra di essere a forum praticamente in mezzo ecco tra le due tra le due parti tra le due parti parti partiamo per galanteria dalla donna come ti chiami francesca molto bene e tu valeria valeria va bene ok c'è qualcosa non mi torna ma farò finta non aver sentito da dove venite bergamo bergamo almeno torna cosa state festeggiando questa sera perché è strano vedere la stessa festa divisa in due però è bello anche vai questa sera è un addio al cielo inubilato sostanzialmente al cielo inubilato che bravo bravo perché l'abbiamo già fatto divisi tuttavia questa sera con un altro gruppo di amici avete raddoppiato abbiamo raddoppiato si organizzato per tutti e due sono amici comuni hanno organizzato per tutti oh bello bello il doppio benissimo quando vi sposerete quindi a questo punto due agosto due agosto stessa data sua no no ma io non so se sono quel giornale un impegno aspetto per la torta viene per la torta vedi che io ho fatto bene a già a presentarmi come forum perché se stavano già dando di santa di santa ragione allora chi è stato il più bravo a organizzare il mattino no non la festa il matrimonio lei bravo confermo delegare a bravo sempre delegare e controllare certo ma neanche troppo se sei fregato proprio di fiducia di fiducia una delega apposita neanche speciale la lega apposita bravo bravo quindi è tutto parliamo con l'organizzatrice è tutto pronto tutto prontissimo e tutto come volevi va bene anche il marito è come volevi o quello lo puoi cambiare sicuro ok no no magari lo cambiavi all'ultimo nella lista no stasera come gira vediamo vediamo come si comporta un po di fauna tra cui pescare nel caso è dura ed ora non cadere in tentazione mi sa che devo contraddire quello che ci ha detto registra all'inizio forse è lei che doveva controllarti più che lui perché stasera è dura ed ora per noi uomini celli ma anche per le donne non è non è facile allora volete fare un saluto a tutti quelli che ci stanno guardando e che vi vogliono immagino bene non lo so speriamo ci sta guardando qualcuno ciao a tutti ci sta guardando un caro saluto a tutti quanti e se non si sta guardando nessuno signori godetevi la vita in altro modo mi piace questa filosofia grazie ragazzi buon divertimento e buon addio al cielo inubilato ciao ciao